Can't Take My Eyes Off You Musica di Cui Gaudi Arrangimento Joan De Mey Can't Take My Eyes Off You Non posso staccare gli occhi da te E' una canzone del 1967 del gruppo musicale The Four Seasons Questa canzone fu uno dei più grandi successi di questo gruppo musicale Raggiunse il secondo posto nella Billboard Hot 1000 E visse un disco d'oro per aver venduto un milione di coppie Frankie Valli, il cantante dei The Four Seasons E' spesso accreditato come scrittore della canzone Ma in realtà fu composta dall'intero gruppo musicale La canzone nel corso degli anni ha avuto molte interpretazioni da vari artisti Tra questi ricordiamo in particolare la cantante Gloria Gaynor Ascoltiamo Can't Take My Eyes Off You Grazie Applausi Grazie 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 a tutti. 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 Grazie a tutti.